È arrivato un pacco, in sostanza mi è arrivato questo bellissimo trasmettitore wireless, questo qua, e ho anche questo, che è la parte che si collega all'amplificatore, quindi se io inizio a suonare, se io inizio a suonare faccio così. È ok, però, essendo un trasmettitore wireless, significa che c'è una frequenza che si connette anche al di fuori, quindi se io suonare fuori, è stupendo!